ciao a tutti ragazzi buonasera da lab allora ho wrappato in white marine perla slingerland come vedete ma l'avevo già detto ovviamente poi ho rifatto i bordi round classico anni 60 come da catalogo slingerland eccola qui praticamente il bordo classico round baseball cap come lo chiamavano gli americani classico bordo della slingerland degli anni 60 quindi fino al 67 è rimasta così praticamente io qui ho ritoccato solo un po l'interno perché era schiacciato era si era consumato non c'era più quindi arrotondando leggermente fuori togliendo e rifilando il wrap si è rifatto il bordino baseball cap ecco qua come lo potete vedere meraviglioso così è rimasta fino a 67 dopo di che ha cominciato a essere un attimino più pronunciato il 45 sempre round ma con più cuspide fino al 71 quando poi è arrivato il 45 netto chiaro perché era il periodo era così ma gli anni 60 sono questi questa del 65 per cui chiaro che dobbiamo rispettare il discorso anni 60 e fare le cose correttamente gli altrimenti sarebbe una cazzata se posso permettermi di dirlo chiaro questa è proprio la buddy rich praticamente la cassa infatti avrà le quattro gambette perché non aveva due aveva quattro proprio come lo stile di buddy rich qui c'è un rullantello e poi vi spiegherò un altro rullantino che devo fare questa della cbl mogano pioppo mogano la meraviglia con rim di rinforzo fantasticissimi fatto dalla cbl di una precisione pazzesca assurda quasi e qui si creerà una cosa che poi vi spiegherò e poi invece questo è un altro fusto cbl dove sarà un rullante particolare con delle meccaniche premier attenzione lunghe lunghe bellissime utilizzeremo un wrap già utilizzato in precedenza vedete che è già forato e cercheremo di adattarlo sopra cercando di nascondere più possibili fori eccetera eccetera verrà fuori una cosetta carina questo successivamente successivamente questi sono i cerchi della slingerland che in questa settimana verranno carteggiati verrà lavorato lillai e poi saranno verniciati ovviamente neri con lillai da 14 mm super fantastico ecco però direi che è tutto per stasera ragazzi io con questi lavori qui chiudo c'è nel senso che non contattatevi più per fare cose perché se volete farlo fatelo ma vi rimando a settembre come a scuola vi rimando a settembre perché ho delle altre cose da fare ciao ragazzi vi saluto con questo qui dal lab è tutto poi prossimi video vi faccio vedere quando installiamo i badge anni 60 tutta una serie di cose insomma ciao a tutti i ragazzi